Non ci sono più parole per descrivere questo Napoli che al Maradona vince nuovamente sull'Ajax per 4 a 2, un risultato che permette al Napoli di volare agli ottavi con merito naturalmente, perché questo è veramente un super Napoli, capace anche di soffrire, anche se in maniera molto molto lieve, una reazione di orgoglio dell'Ajax avvenuta nel secondo tempo, dove comunque gli olandesi hanno cercato di dirla loro dopo aver preso fiducia, insomma dopo il gol di Klassen arrivato subito nei primi minuti della ripresa e poi con il regolo assegnato per fallo di Jesus. Però queste reazioni dell'Ajax sono state veramente molto molto leggere per un Napoli che invece è stato in controllo della partita anche soffrendo in questi frangenti, forse lasciando un po' troppo spazio e sbagliando forse qualcosina, ma un Napoli che è stato sempre in pieno controllo della situazione, un Napoli che comunque ha sorpreso per la tenacia e la continuità del ritmo, ritmi molto alti, quelli dei partenopei, contro questa squadra insomma dove ci si aspettava comunque una reazione minima di orgoglio. Poi comunque un Napoli che ritrova Ozymane in campo, che ritrova Ozymane stesso la gioia nel gol del 4-2, un gol cercato insomma dall'attaccante nigeriano e naturalmente solita super prestazione di Kvarashkelia che ha veramente sorpreso tutti per continuità insomma, per intensità di gioco, soprattutto per queste progressioni che lasciano veramente senza parole tutti, compresi i difensori delle squadre avversarie. Detto questo insomma ci godiamo questo passaggio agli ottavi e sempre forza Napoli. Un bacione, Marika!